Abbiamo ricordato la data del 4 novembre con gli studenti delle scuole medie di Berceto per dare loro un senso della storia più vissuta da vicino, diciamo così. La spiegazione è stata semplice, quella di ricordare non solo una festa della nostra Italia, la festa anche delle forze armate e del compito che queste forze armate svolgono quotidianamente e presso i confini dell'Italia, entro i confini dell'Italia e nelle altre zone del mondo. Quindi diciamo ripristinare con consapevolezza una festa che riguarda la storia del nostro paese e l'importanza appunto delle forze armate che hanno cambiato la loro modalità di esistere e sono vicini ai cittadini come abbiamo visto anche nelle ultime alluvioni sia nei disastri che sia nel sostegno della vita quotidiana. Credo che i ragazzi abbiano capito e abbiano apprezzato questa giornata e il suo significato.